non avete la sensazione di sentirvi dietro le spalle il nome sudakan una roba del genere cioè proprio sto sudando cioè sto sudando sono stato 100 minuti tra primo e secondo tempo non mi sono alzato così tante volte come stasera dalla stasera sulla sedia me la son vista la partita neanche sul sulla mia bella poltrona sulla sedia perché mi alzavo ogni tre minuti cioè veramente una partita allucinante si va in germania ma ma io dico stasera ho avuto una sensazione stile maestro zan paura questi adesso la mettono dentro sento il gol quello lì il mudrick micchia quel mudrick lì come cazzo andava ragazzi a 2000 all'ora comunque abbiamo fatto secondo me una bella partita al di là del risultato uno 0 a 0 forte cioè nel senso che a mio avviso un po se uno la vedesse da fuori 0 a 0 chissà che partita invece è stata una partita incredibile da una parte dall'altra ci sono state occasioni da gol clamorose tanto da una parte che dall'altra la prima che viene in mente frattesi il primo tempo lì solo davanti la tira in bocca quello là poi anche donna rum al secondo tempo quando ha fatto una paper unnata che poi ha rimediato sempre lì su mudrick però una lotta una lotta dall'inizio alla fine ce la siano dovuta sudare fino alla fine pure sta qualificazione c'è veramente non c'è pace non c'è pace con l'italia dobbiamo proprio patire all'infinito sono contento ovviamente della qualificazione adesso bisognerà anche vedere una volta che andremo proprio in germania questi europei a giugno c'è in questi mesi di amalgamare un po di più cioè spalletti si vede che c'è la sua mano è si vede che una squadra più cazzuta mi è piaciuto molto il cambio anche di scamacca il secondo tempo su raspadori che ovviamente già veniva da tre tempi tra le due partite è alzato molto il baricentro e soprattutto lui ha fatto a sportellate lì davanti e in un'occasione secondo me c'era anche una punizione a nostro favore lì dal limite che chissà come poteva andare al di là di questo l'arbitraggio è stato molto molto flessibile anche perché ragazzi al 93esimo non ditemi la verità io ho detto questo è rigore e rigore io non so come il var non l'abbia visto a me se facevano una roba del genere a me io mi sarei incazzato quindi gli ucraini hanno tutte le ragioni per incazzarsi io ho visto lì che c'è stato abbiano poi magari mi posso sbagliare ho visto dopo le immagini la moviola che il il ginocchio comunque la gamba di di buongiorno aveva toccato mudrick io lì mi si è fatto così piccolino piccolino dunque è una squadra che ha tenuto botta la nazionale ha tenuto botta ci sono stati diversi cambi buono buongiorno buono mi è piaciuto l'indifesa insieme da cerbi di marco ovviamente di l'era e di lorenzo sulle fasce sono una garanzia poi alla fine paradosso quando è stato sostituito politano per darmiana non era entrato manco da dieci minuti politano però per ovvie ragioni gli ultimi cinque minuti il forcing dell'ucraina stava aumentando e una partita intelligente a mio avviso da parte di luciano spalletti difficile è stata una partita obiettivamente difficile anche perché dall'altra parte ovviamente l'ucraina aveva solo un risultato ed era la vittoria noi sì che avevamo due a favore quindi il pareggio abbiamo preso proprio per il rotto della cuffia col pareggio e la vittoria quindi era ovvio anche una reazione da parte degli ucraini così vemente però l'italia ha saputo anche saper aspettare sopportare certi momenti di difficoltà un'oretta buona secondo me ha giocato anche bene la nazionale adesso ovviamente dovrà cominciare a trovare i pezzi giusti per affrontare l'europeo in maniera onorabile perché non è che andiamo lì a fare figure di cioccolata e siamo sempre l'italia quindi sti mesi qua speriamo che riesca a fare l'amalgama spalletti per creare una nazionale perlomeno che possa essere non lì la cenerentola della situazione della situazione ma che abbia voce in capitolo che questa è la speranza penso di tutti noi in ogni caso ucraina zero italia zero italia qualificata finalmente almeno cioè io veramente ve lo dicevo in questi giorni speriamo che la chiudiamo qua perché sennò poi dopo marzo anche i playoff mamma mia una rottura di ball adesso ce la godiamo solo col nostro campionato con la champions league con la coppa italia quello che è e la nazionale se ne parla finalmente a giugno così ci facciamo una stagione tranquilla niente fammi sapere nei commenti in basso che cosa ti è parsa questa partita se questa analisi ti è sembrata abbastanza coerente ed equilibrata sempre i bei like e gli iscrizioni sono benvenuti e benvenute sia da uomini che da donne e dai ragazzi finalmente si va in germania un bacio a tutti a tutti e grazie grazie azzurri dai grazie forza ragazzi